In media ci saranno 50 metri di spiagge in più con una funzione non solo estetica e di fruizione estiva ma anche di mitigazione del rischio legata alle mareggiate. Il lavoro di ripascimento dell'arenire nel tratto orientale della costa della città di Salerno è ormai quasi concluso. Siamo nella fase avanzatissima dei lavori, abbiamo fatto una verifica stamane per capire un po' come è l'andamento del cantiere anche in funzione di quelle che sono state le condizioni atmosferiche delle mareggiate che abbiamo registrato nei giorni scorsi non proprio favorevoli, però questo ci dà conforto che il sistema ha funzionato perché i lavori stanno procedendo e credo che saranno rispettati i tempi delle consegne così come previsto da programma. Si avvieranno poi altri due lotti dei lavori di ripascimento che arriveranno fino alla spiaggia di Santa Teresa, al centro della città. Intanto tornando al cantiere che sta ultimando l'operazione si spera che entro febbraio l'intero lotto sia finito. Nel giro massimo di 20 giorni potrebbe essere anche concluso l'intervento nella sua interezza poi ci saranno chiaramente le ultime sistemazioni da fare ma massimo in un mese potremmo aver concluso i lavori chiaramente tempo permettendo ma pensiamo di poter rispettare questa tempistica.